Ciao a tutti, oggi siamo qui per presentarvi un nuovo coltello. Il coltello è il NILTE QUIETE. Il QUIETE è il primo coltello prodotto dalla NILTE. Si presenta come un piccolo compatto folder pieghevole che si avvale di alcuni sistemi piuttosto originali e particolari. In particolare possiamo notare sul dorso il sistema che NILTE ha chiamato Pure Backlock. In pratica è un Backlock tradizionale che però non si avvale della normale molla interna, ma è fisso. Il sistema di sgancio della lama è dovuto essenzialmente all'attenzione del liner interno in metallo. Troviamo poi sulla parte dorsale della lama una godronatura che NILTE ha chiamato Wave per la sua forma ad onda, come si vede, molto comoda e confortevole al tatto. La lama ha una forma sheep foot, quindi in pratica la punta viene a cadere a livello del filo della lama. All'interno del pivot sono state ricavate infine due asole laterali, che ovviamente qui non si possono vedere, sono interne al coltello, che sono state riempite di lubrificante prima dell'assemblaggio del coltello, in maniera tale da offrire una lubrificazione in fase di apertura e chiusura ottimale. Il NILTE è un coltello che richiede l'apertura a due mani. La cosa è stata fatta appositamente per dare al coltello un aspetto il più possibile non aggressivo, come anche la forma della lama sheep foot. non ha una clip per il porto, quindi va portato in tasca o in un marzupio, ma non si può clippare alla tasca. E infine ha un foro nella parte finale del manico dove si può passare un lanyard, un cordino. Passiamo adesso alle prove del coltello. Grazie a tutti! 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 Prove sono finite, il Nite Quiete è un coltello ben fatto, ben costruito, nessun gioco lama, comodo da impugnare, la lama è molto affilata e lavora bene sia sul legno che su materiali come la corda o la frutta per esempio, i vegetali in generale. È un coltellino molto leggero che si può usare tranquillamente come EDC, cioè come coltello per uso quotidiano, in quanto non ha un aspetto assolutamente aggressivo si può portare tranquillamente in giro, non suscita allarme nelle persone che ci circondano e che lo vedono e nello stesso tempo è un coltellino molto efficiente e ben fatto.